non risponde alle regole pubblici, tutto questo non risponde alle regole. Un paese è democratico non solo quando ci sono delle elezioni democratiche, ma un paese è democratico sempre se rispetta le regole, altrimenti non è più democratico. Quindi io penso che oggi noi in Europa dovremmo quasi essere pronti all'arrivo di rifugiati burchi, perché si è rifugiati in base alla Convenzione di Ginevra quando si fugge da un contesto in cui non si rispettano le libertà individuali, ed è quello che purtroppo sembra accadere oggi in Turchia, quindi questo mi rivolta all'accordo.